amici ma soprattutto nemici piangoneri buon pomeriggio ragazzi buon pomeriggio ragazzi l'Atalanta non fa sconti vuole 60 milioni sull'unghia per Coppa Maiara non fa sconti i bergamaschi sono categoriche niente contropartite niente scambi niente di niente o pagare o niente giocatore e 60 milioni ragazzi sono troppi con tutto il rispetto come non ci vale 50 milioni Calla Fiori non vale neanche 60 milioni Coppa Maiara nella maniera più assoluta 40 milioni sono più che sufficienti fermo fermo fermi fermo lì e penso che si fermi anche la io penso non penso che l'abbiamo insomma o vada a imbastire anche lì con una trattativa queste cifre a questo punto direi aggiuntoli giuntoli metti in modo anche un pochino il tuo diciamo dna ed è quello dello scouting è possibile che ancora tutt'oggi non abbiamo trovato un giocatore sconosciuto non abbiamo trovato un giocatore che possa fare bene all'avvenuto e non è non sia un giocatore è troppo a livello di cartellino oppure non è possibile andare dall'udinese a prenderci questo smart come si chiama sala smart come si chiama che questo ha un prezzo di 25 milioni ed è un ottimo un ottimo giocatore mi fa mi fa mi fa mi fa mi fa meraviglia come ancora la vivendo si torna su questo giocatore che ha un prezzo un prezzo un prezzo giusto e ha un'ottima resa mi fa meraviglia come ancora la vivendo su questo giocatore si torna è possibile che non non esca dal cilindro di giuntoli un nome un nome non troppo caro abbiamo preso di gregorio a 20 milioni caro caro abbiamo preso dallas luiz caro abbiamo dato i due contrapartite poi c'è addirittura chi dice che le abbiamo svendute fate voi fate voi su questo concetto abbiamo preso turam abbiamo preso giusto abbiamo speso abbiamo speso non è che non abbiamo speso abbiamo vinto abbiamo vinto che alla fiorentina ed è stato un colpo di genio però dal cilindro queste che non sbuca nulla perché ragazzi 60 milioni per il corpo maia che sono troppi non si non si discute anche se la loro stanno prendendo zaniolo non lo so non lo so non penso che la viennes possa possa fare qualcosa per questo su queste su queste cifre su queste basi è escluso è escluso vorrei tanto che aggiuntoli magari riesca la scienza come a napoli e se riesca fuori con lo botta si riesca fuori con un angustia si riesca fuori con una cravasteia gente che cartellino basso poi con la valorizzazione di motta è tutta un'altra tutta un'altra roba io lo sto aspettando ancora questo 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 passaggio e ci sta ci sta anche perché quello diciamo di grido già li abbiamo presi due giocatori a centrocampo e li abbiamo presi quindi ci sta per quanto riguarda poi chiesa ragazzi oggi ha dimenticato di dire che c'era la roma in trattativa con chiesa ma la roma scusate quando può offrire più della juventus non penso che può offrire più di vedere adesso quando può fare lui quando ne chiede 7 8 la roma non penso che arriva 7 8 la roma arriva a 6 ingarbugliata anche questa situazione ingarbugliata molto 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 ingarbugliata però ormai pensi che con chiesa la strada sia sia stata già presa però però ripetisco per fare l'ultimo passo per prenderlo questo benedetto centrocampista che dovrebbe chiudere il cerchio per quanto riguarda il centrocampo 60 milioni sono troppi sono troppe sono troppe sono troppe sono giuntoli vai dall'utinese a prendere smart pitch vai all'utinese è un grande giocatore questo non costa tanto ma veramente uno che sta a fare il suo mestiere vai a prenderci potete lo deve fare il suo mestiere fidedi un abbraccio ma se ci ingazzate fino alla fine forza io